Mi chiamo Kotira Marietta, ho 61 anni, vengo di Ovoda, sono in Romania, farò intervento per denti fissi 24 ore. La mia situazione della bocca mi dà fastidio tutto, non riesco a mangiare bene, sto morsicando sempre la lingua, sto male, perciò ho deciso che già da 61 anni, dopo una vita di lavoro, merito avere una protesi come si deve per assicurarmi la vita e perciò ho deciso che nella vita sempre deve prendere una strada quella più facile, deve prendere la strada giusta per me, vero, penso che è strada giusta, perciò ho deciso di venire qui senza mangiare di rispetto nessuna clinica. Vorrei ottenere con questa la serenità, la gioia di ridere, di mangiare, anche di passarmi la preoccupazione, a dire guarda un giorno rimanerò senza dentini, la sicurezza giorni di domani. Voglio ringraziare tutte le persone che come io oggi lasciano questa intervista, che con loro aiuto mi hanno convinto di arrivare qui. Voglio ringraziarli di cuore, ognuno ha messo quello piccolo tassello e gli augurio di usarsi i dentini per tanti tanti anni. Ora poi sono sicura che andrà tutto bene e ci vediamo la prossima video intervista con un sorriso grande appena qui. Mi chiamo Hotira Marietta, vengo di Ovoda, sono di nazionalità rumena, mi sono messo i denti fissi in 24 ore. Prima di intervento avevo grossi problemi con i denti, avevo vergogna anche di andare in un ristorante, proprio non riuscivo a mangiare. Sempre lo guardavo e mi dicevo io un giorno ti cambierò, io un giorno ti cambierò, che quello giorno è arrivata. L'intervento è andato benissimo, non ho sentito nessun dolore, niente. Secondo giorno avevo i miei dentini, ero contentissima, non mi veniva proprio a credere, pensavo che era un sogno, ma non era un sogno, era la verità. Mi hanno fatto sentirmi come a casa mia e questa conta molto, 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 a sentirti bene, come una grande famiglia. Io così mi sono sentita di primo giorno, mi sono sentita coccolata, accarezzata, mi sono trovata bene. In 24 ore mi hanno cambiato la vita. Hai la tua sicurezza, puoi ridere, puoi mangiare. Non voglio niente in maniera diversa, più di così per me non si può, sono contentissima. Voglio ringraziare tutti questi ragazzi che sono belli, giovani e belli. Ringrazio di cuore tutta questa famiglia. Noi siamo una famiglia, noi tutti che ne abbiamo messi dentro la Boiero Clinic, non lo sappiamo, ma siamo una famiglia. Qualcosa ne lega fra di noi, ne lega questa Boiero Clinic. Vi ringrazio di cuore.